A conoscere gli stili satria, stili filippino-indonesiani, andremo a vedere la pratica di queste discipline partendo dalle armi bianche, da quelle più lunghe, volta per volta, accorciando sempre di più fino ad arrivare alle mani nude. Allora, lui è un maestro, ha un'esperienza pluridecennale nel mondo delle arti marziali ci presenta queste discipline, poi vi darò qualche delucidazione in più anche perché c'è uno spazio interamente dedicato perché lui starà in nostra compagnia tutti e quattro giorni. Mi stava già anticipando il fatto che anche lui terrà dei corsi, dei seminari sul tatami alle quali le persone si possono iscrivere, quindi vi darò un po' di informazioni alla fine della sua performance. Quello che ci tengo a dire è che quello che vedremo tra poco, proprio per la grande esperienza del maestro, verrà tutto, non è un predefinito, come succede per tante altre cose, ma è un'improvvisazione quindi verrà fatta sul momento. E allora, diciamo un bel applauso dalla SFI Asia Martial Arts, il maestro Eros Garberoglio. E allora, diciamo un bel applauso dalla SFI Asia Martial Arts. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.